Sì, diciamo che le certezze noi ce le abbiamo, poi le incertezze vengono scorporate da tutto il contesto. Le certezze finora sono state che, subentrando in questa situazione, in questa società, sono state fatte delle vendite o cessioni importantissime per sgravare dal monte in Gaggi una pesantezza inaudita per la categoria di serie B, figuriamoci per la serie C. Quello che ci è stato importante è stata la cessione di Jomber. In questo momento abbiamo una proprietà che vuole vendere e questa è una cosa che noi siamo qui ad aspettare l'evolversi delle situazioni, però siamo consapevoli, abbiamo messo una squadra in campo che non è ovviamente la squadra definitiva. Infatti in quella squadra mancheranno dei calciatori, quasi in tutti i ruoli, dei calciatori importantissimi di quella categoria, quindi andremo a fare una buona squadra sicuramente. Però ci sono delle montagnette da scalare che sono la penalizzazione, che sono le difficoltà del momento riferite al passato. Tra queste certezze e incertezze è una certezza sicuramente buon anno che continua il suo lavoro al Catania dopo questa brevissima interruzione. Sì, ma io mi sono trovato qua per dare una mano al Catania, poi mi sono passate per la mente tutti gli anni passati qui al Catania, che io mi ricordo le cose bellissime che abbiamo vissuto nel Catania, e da lì è nata una cosa che poi di volta in volta c'erano delle necessità da trasferire alla società. Le necessità le abbiamo coperte con questi uomini, con un allenatore importante e con una squadra che via via formeremo nell'arco del tempo. Anche con ottimismo dico, solo che in questo momento ci dobbiamo liberare del recente passato. Poi potremmo parlare di obiettivi. Esatto, poi parleremo di obiettivi. E soprattutto il primo obiettivo è eliminare quel meno 12 in classifica. E il primo per forza. Prima bisogna arrivare a zero, poi da zero bisogna fare dei piccoli passi e poi si vedrà. Un'ultima domanda, chiederete di essere inseriti nel Giro Nera per motivi di ordine pubblico? Ma no, questo non lo possiamo chiedere noi. Poi non so se qualora così fosse, se si facesse o meno un torto ai nostri tifosi. Quindi non possiamo pretendere questo assolutamente. Saranno gli organi competenti a decidere eventualmente una cosa di questo genere. Non siamo certo noi.